Buongiorno e benvenuti allo stand CMP a Dispo Monaco 2019. Sono Paolo Martignon e sono Product Manager per le calzature di CMP. Oggi ho piacere di introdurvi alcune delle tante novità che stiamo presentando in fiera per la stagione Fall Winter 2019-2020. Tra le novità più importanti, sicuramente quella che sta riscuotendo maggior successo, c'è Alcor, un modello che presentiamo sia come scarponcino mid che come scarpa bassa. È un modello ideato per trekking leggeri su terreni mediamente impegnativi. È caratterizzata da una tomaia in pelle di maialino, quindi molto leggera e traspirante, ma allo stesso tempo anche resistente. È dotata di un incredibile comfort di calzata, grazie ad una forma molto precisa e all'utilizzo di materiali morbidi su collarino e linguetta. Presenta due inserti sul tallone e punta per la protezione contro gli urti, contro le rocce. È montata su una suola eva e gomma. Infatti l'intersuola è in eva microporosa tranciata bi-densità e la suola è in gomma CMP Full On Grip, quindi garantisce tenuta e trazione su terreni anche molto insidiosi. La scarpa è completamente impermeabile, grazie alla nostra membrana CMP Clima Protect ed è presentata sia nelle varianti colori da uomo che nelle varianti colori da donna. Entrambe le versioni sono caratterizzate da una semplicità nel design e da una pulizia delle linee movimentate ad alcuni dettagli di colore in contrasto, soprattutto negli occhielli, nel laccio e nella fodera interna. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS